Commemorazione del 78esimo anniversario del bombardamento atomico delle città di Hiroshima e Nagasaki, avvenuto il 6 e 9 agosto del 1945. La città di Como, città messaggera di pace, onora la memoria di tutte le vittime del bombardamento atomico, deponendo la corona di alloro presso il simbolo dell'olocausto, una scaglia di Hiroshima. La città di Come, città messaggera di Hiroshima e Nagasaki, Grazie a tutti. Grazie a tutti.